E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono tornato finalmente sul canale dopo un anno e mezzo e voi vi chiederete, perchè sei stato così lontano da youtube per così tanto tempo? Allora, questa è una cosa che purtroppo non vi potrò dire, però diciamo io vi vorrei dire tutto ma questa non ve la posso dire Allora, prima di iniziare il video vorrei ringraziare per tutti voi, cioè i miei pochi iscritti, vorrei ringraziare i miei iscritti perchè mi seguono e appena vedranno il mio video spero che lo apprezzeranno Allora, prima di iniziare a fare partite vorrei salutare un mio amico con la sua intro, con una intro che mi è piaciuta tantissimo e che ha fatto lui Scusa per la scorreggia col palloncino però Ciao Jack, sono Giancarlo, come vedi? Ho riaperto il canale, come ieri ti avevo detto, quindi ciao La tua intro è bellissima, i tuoi video sono bellissimi Anche voi iscrivetevi al suo canale, attivate la campanellina Ovviamente fatelo anche con me E non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito Il mio mazzo comunque è buono direi, me l'avete consigliato un iscritto Tempi dei verbi, plurali, grammatica, roba odiosa Allora, col mastino lavico, ovviamente conoscerete la tecnica spero, mastino e mongolfiera Che con degli sgherri potrebbe andare giù Però prima vi fa un bel po' di danno Allora, poi l'orda di sgherri e di scheletri Poi abbiamo la scarica La torre inferno che è buona e tanca Lo stregone Che prima avevo messo la lapide, poi mi sono accorto e non la usavo molto Quindi ho messo il mago Per poi magari affiancarlo anche alla mongolfiera oppure al mastino E poi ho messo la valchiria Bene, possiamo iniziare Battaglia uno contro uno Via! Bene, abbiamo già trovato un avversario L'avversario si chiama Boo Oddio, me ne ha già mandata una Mamma mia Mi ha già sponato roba su roba Ok, ok Abbiamo una gang di goblin Quella era, una gang di goblin? No, goblin Però ha messo solo truppe piccole Non so se ve ne siete accorti Ok, vai Forse potevai anche evitare di difendermi dal barbaro, però Ok Lasciamo morire questo mega sgherro in pace Prima mettiamo una zap Lasciamo morire il mega sgherro in pace Cerbottana Infatti mi pareva strano Questo è stato in arena Non mi ricordo Ok, prima uccidiamo questo E poi mettiamo Gli sgherri Ok Questo ha fatto un errore Anzi no, li ho usati bene Eh no, eh no Per ora Lui mi farà un botto di danno Tipo Con questi Noi nel frattempo Guardate me Stiamo devastando quella torre E va giù Prima torre Da quando sono tornato Perfetto Ok Ora appena andrà giù il mastino Spero che succederà Il delirio più totale Ok No Non è successo il delirio più totale Purtroppo Vabbè Comunque Non posso lamentarmi Per questo inizio Abbiamo iniziato Veramente in modo perfetto Forse un po' di danni Ce li potevamo anche risparmiare Però Diciamo che abbiamo iniziato In modo Più Che buono Ok Lasciamo quel cerbottaniere Colpisca la valchiria E nel frattempo Andiamo di mongo Ah Il bombarolo Deve andare via Buona Buona la mongo E dal colpo Poi Ovviamente Non riesce a darne altri Attenzione La connessione Potrebbe farci perdere Io spero di no E invece no Infatti Ok Un po' di danno Ce l'hanno fatto E sempre per il fatto Che la connessione È lentissimo Purtroppo Cioè mi dispiace Sembra triste Cioè è triste Però è così Non Cioè la connessione Mi va poco Proprio oggi Dovevo fare il video Santa polenta Ok Ok Buono mastino Buono mastino Buono mastino Buono mastino Attenzione Valkyria Qui per anticiparlo Attenzione Vicino alle tre colore Vai No No Ok Vai mago Inferno Per anticiparlo Ragazzi Cioè Credo che lui sia Uno script Tipo Perché Perché Non posso trovarmene uno Che è andato già in arena 9 Attenzione Torre 200 No Non me lo pare Mannaggia Vabbè Cercheremo di vincerla Nel finale Zap Forza raga Vai No Vai vicino Non ho la Fireball Nel mazzo Sì Gliel'ha fatto però Ok 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 Calma e sangue freddo Raga Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Raga Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Due Magas gherri Madonna Ragazzi Ragazzi Non Posso redere Che magari Non riuscirò a vincere Ragazzi Cioè Questa partita Ce l'avevo in pugno E ce l'ho ancora in pugno Sto guadagnando Col pugno di ferro Eh no Non la sto guadagnando Col pugno di ferro Niente Perché rischio di perdere Mungo 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 qui Ci tenta Non mi sono difeso Oddio No C'è il puttana Fai 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 Sì Vinciamo 3 a 1 All'overtime 5 secondi dalla fine Iniziamo perfettamente Perfetto Ok Facciamo Altre due partite E poi direi Che come video Può già andare bene Prima Dopo un anno e mezzo Torniamo A far sognare Ok Torniamo nel nostro mazzo Siamo stati molto fortunati Stavolta 5 secondi dalla fine O la bomba della mongolfiera Ok Siamo passati dal livello 10 Tornamente a un livello 6 Uh Qui ho la combo dell'anno Da vedere O me la colgo in fragrante Cioè spero Mastino Mi stavo Ok Perfetto ragazzi Ok Ora Proverai a fare un po' In modo più silenzioso Direi Ma Facciamo un po' più di silenzio Va Ok Bene I cuccioli lapici Però Non faranno niente Ovviamente Perché c'è Il mago Ok Nel frattempo Buttiamo giù Sto cavaliere Abbiamo iniziato bene Direi Bene 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 Mongo No Non ho niente Purtroppo Qui Mi sa che Mi farà un bel po' Di dannetti Ok Addirittura Forse potrebbe anche andare giù La torre Io spero di no Però Magari Sarà così Il fatto è che La torre L'abbiamo Buttata giù Noi Però Probabilmente La perderemo anche Cerchiamo di non perderla Ma probabilmente La perderemo E infatti Peccato Però comunque Ricordiamoci È lui al livello Più basso di me Quindi ci potrebbe stare Un po' un pareggio Mi va bene Cioè Per carità Mastino Volevi Allora Ok Iniziamo Sponiamo Bene C'è anche il Mago Maghetto 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 Sei in pericolo Mi sa Mago sei in pericolo Mago è in pericolo Mago è in pericolo Mago è in pericolo Ok Non me ne ero accorto Non me ne ero accorto No No Ragazzi non me ne ero accorto Ragazzi questa la La rischiamo di perdere seriamente Anzi Senza seriamente Questa All'overtime Quasi Overtime Sette secondi Vabbè Una sconfitta Diciamo ci sta Devo ammettere Lui era avevo un buon mazzo Io me la sono giocata male Quindi Vabbè Tanto È una sconfitta Direi che Comunque Era meglio Dell'altra partita Ok Fino a che non ne vinciamo Una Facciamo così Fino a che non ne vinciamo Un'altra Io Non finisco il video Ok vai Usiamo questo E mi piace Come deck Sempre piaciuto Iniziamo Se ci trova l'avversario L'ha trovato Dovand'è che sta al 100% Abbiamo iniziato Batteria scarica Wow L'ho caricata da mo' Vabbè Partiamo Bene Ragazzi però Ma chi volete Prendere in giro Che schifo Non siamo riusciti A toccargli la torre Con una combo Da 10 di Elisir E ci ha riuscito E ci ha riuscito lui Con della roba In fin di vita Capanna dei barbari Per questo mazzo È negata Uh Fotocamera coperta Io direi di attaccare Dall'altro lato Cioè Perlomeno ci provo Ragazzi Non lo riesco a ammazzare Purtroppo Questo principe No Zappa Magari è meglio Il Doma E se ne frega Di tutto Bella No Non bella Ok Forse è bella Vai vediamo Se gli spiriti Appena gli spiriti Li arriveranno Non bella Per niente Purtroppo Bella per niente Purtroppo La torre Gliel'abbiamo fatta Ma Lui ce la rifarà Cucciolo di drago A che livello era Scusa Per corre hanno messo Una nuova numerazione Di carte Devo ammettere Che non è proprio Il massimo Anzi Non mi piace Da uccidi Quel Doma Prima è di al colpo Ma va Ma va Ma va Cavolo Sarà l'orda Mi frega Però Io Provo a andare Di Astuzia Uccidele Maromma Vai 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 Forza Dagli il colpo Dagli il colpo Ok Vai ragazzi Possiamo anche farcela Possiamo farcela Ok 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 Perché il principe va di là Non lo so O crimbolo Bella Dai Vai Che non ci sono andati gli scheletri forza possiamo entrare entrate in capo scendiamo in capo vai Scendiamo in campo tutto il nostro esercito vai doma ok 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 calma calma e sangue freddo calma e sangue freddo c'è ancora l'overtime c'è ancora l'overtime Vai 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 Voi Ok non si vede niente tra il esire insufficiente 60 secondi tempo non si vede niente se lo ha le frecce mi frega Vai Sì E la vinciamo ragazzi Chiudiamo così il video signori Chiudiamo così il video vabbè che fail pensavo senza dubbio che la registrazione si fosse chiusa ok ok quindi ragazzi io direi che questo video è andato veramente bene ci vediamo stasera pubblicherò un video sulle partite di calcio e succederanno oggi sugli eventi calcistici perché per chi non lo sapesse io sono un appassionato di sport di squadra come il basket e il calcio va bene ci vediamo stasera alle ore 7 circa quindi per il pre partita poi farò anche un post partita magari se ci riesco perché credo di riuscirci perché domani non devo andare a scuola quindi iscrivetevi attivate la campanellina mettiamo un hashtag vai facciamo così hashtag ok ora poso il telefono hashtag fino alla fine non sono giuventino però e ci salutiamo così qui